Il lancio del suo primo singolo, Bugatti, Aida Jespica non ha fatto più sapere nulla di sé. Oggi però la ex naufraga dell'Isola dei Famosi è tornata sui social facendo vedere ai suoi fan il suo fisico molto dimagrito e spiegando loro che cosa le è successo nell'ultimo periodo. Attraverso una storia su Instagram Aida Jespica ha svelato ai suoi follower che anche lei, nelle ultime settimane, è stata bloccata in casa dal Covid. Sebbene la malattia non le abbia lasciato alcun fastidio ora che è guarita, un cambiamento a livello fisico piuttosto importante c'è stato, e i fan lo hanno subito potuto vedere dalla foto postata sui social. Non è stata l'esperienza già vissuta in passato all'Isola dei Famosi a farla dimagrire. In realtà è stato il Covid che le ha fatto perdere 10 chili. La foto postata da Aida Jespica in leggerì nelle sue stories Instagram lo ha mostrato chiaramente tanto che qualche fan si è pur preoccupato. Aida Jespica lo scorso luglio ha compito 40 anni e per l'occasione ha raggiunto il figlio Aaron a Miami che non vedeva da due anni e mezzo. Aaron vive a Miami con il padre, l'ex calciatore Matteo Ferrari, e madre e figlio non si sono visti per lungo tempo per alcuni dissidi tra i genitori, oltre che per le complicazioni della pandemia. Isola dei Famosi, dramma per una ex concorrente, bloccata in casa dalla malattia come sta oggi? In amore però la bella Aida Jespica non è stata propriamente fortunata. Dopo la storia conclusa sì con il calciatore Matteo Ferrari dalla cui unione è nato Aaron, c'è stato il matrimonio nel 2012 con Leonardo Gonzalez, un avvocato venezuelano, con cui ha chiuso però solo otto mesi dopo. Sul figlio è da Jespica ha svelato, sto aspettando il visto ed è dura. Sono sempre presente nella sua vita, lo sento al telefono ci videochiamiamo, ma viverlo di persona è diverso. Al telefono è complicato e poi è comunque un bambino di 13 anni, capita che lo chiamo e magari è distratto perché impegnato con i suoi giochi, le sue cose. Il papà devo dire che è bravissimo, lo segue molto. Grazie a tutti.